Siamo qui con Carlo Cottarelli, la sua esperienza oggi qui al congresso di Piuropa e l'importanza della sua figura qui? L'importanza della mia figura? Non lo so, la devono dire gli altri. Io ho fatto molto volentieri, sono stato invitato e ho accettato molto volentieri di fare il presidente della commissione di garanzia, che ha richiesto parecchio lavoro nelle settimane passate, però il congresso è andato bene, non c'è stato bisogno, non ci sono state nessuna cosa particolarmente controverso, è andato tutto bene. Crede in un futuro, in un unico partito liberal democratico? C'è una possibilità, un'opportunità nella creazione di un partito del genere? Allora la difficoltà storica dell'Italia per l'area liberal democratica è stata proprio quella di non mettersi insieme. Bisogna vedere se si riesce a superare questa cosa, io spero di sì perché è molto importante che quest'area ci sia. Le idee sono le stesse, sono particolarismi, personalismi che devono essere superati.